I decessi odierni nelle ultime 24 ore sono 26, età media 79 anni, arrivando a un totale di 336 vittime dall'inizio dell'epidemia. 97% avevano patologie pregresse, tranne un 74enne di Pesaro. I tamponi positivi rilevati nelle Marche sono stati 180, su un totale di 727 processati. Lo rende noto il Gores. I positivi complessivi salgono così a 3114, su un totale di 8623. Sono 1143 i pazienti ricoverati con coronavirus nelle Marche, di cui 166 in terapia intensiva. I dati indicano che i pazienti in area postcritica sono 198 e quelli in terapia non intensiva 779. Sono 129 i dimessi, 9 i guariti, 1.652 i malati in isolamento domiciliare. Per i ricoverati di terapia intensiva, Marche Nord e gli ospedali riuniti di Ancona sono a testa a testa con 39 ricoverati ciascuno. Sono arrivati a 6.155 i casi a contatti di isolamento domiciliare, tra cui 619 operatori sanitari. Intanto non si ferma la realizzazione di un ospedale da campo in regione, che entro tre giorni verrà costruito dalla Cina, nel quale lavoreranno 50 medici, 80 infermieri e 30 tecnici, tutti provenienti dal paese asiatico. Lo ha annunciato il capo dell'emergenza della protezione civile Luigi D'Angelo, sottolineando che si tratta di tutti i sanitari ed esperti che hanno lavorato a Wuhan. La struttura sarà posizionata nell'area dell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Sarà in grado di ospitare una sessantina di posti letto, di terapia intensiva e subintensiva. Siamo molto contenti e un segnale importante di attenzione, ha precisato il governatore Ceriscioli, che è stato informato stamattina della missione. C'è un rapporto decennale tra Torrette e la sanità cinese, che si è intensificato negli ultimi cinque anni, dice in una nota stampa. Ogni anno operatori sanitari cinesi arrivano ad Ancona per corsi di formazione e specializzazione.